Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Poki e oggi siamo stati qui su Crash Bandicoot di Dari Cortex. Nella scorsa fase abbiamo fatto il Bandicoot di Albirino, oggi invece facciamo Tsunami. Ok Siamo diventati Ok Ok Ah, ah no, no, ok Ah, quando c'è lei c'è sempre sto cosa della giungla. Ah, no, non ce ne vediamo, perché lei non ha il suo salto Ok Vabbè Ah Ehm, no, vabbè, vabbè non fa niente Zkenali Ah No No Nò Vabbè va a do Ah, ci ho preso il tasto, vabbè, 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 ok, non vi preoccupate delle acasce tanto che le vende due No, ok Ah Ecco qua Benissimo Bene ragazzi, io direi che per questa parte può essere tutto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video Ciao